...per un terzo, quindi da me l'hanno a 12 mesi, tu puoi darci 4 mesi comportandolo con loro. Ah no, tu ci puoi andare solo anche d'estate 10 giorni. No, se io ci voglio andare 20 giorni e voi 20 giorni e voi 10, secondo dei tempi, solo che loro sostengono il contrario. No, non è così. Però, hai capito? Quando ci sono questi problemi, mi impattano il telefono. Ma c'è un'interdizione strana, cioè non ha diritti ma doveri, cioè è strana sta storia. Allora, chiamolo quando vuoi. Tra le parti del campanino in verla. Sì, sono, come te. Sì. Attenzione. Sì. 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 M, Sì. 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 Sì.